Non ho nulla da nascondere, così il Presidente Napolitano ha la cerimonia del ventaglio in merito all'inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia. Ho un principio da difendere, nessuna volontà di protagonismo personale, speculazioni miserrime. E aggiunge, il prossimo sarà un anno cruciale, si confermi la coesione nazionale, poi sollecita la nuova legge elettorale. I PM di Palermo sulle tracce del denaro che Silvio Berlusconi ha versato a Marcello Dell'Utre accusato di estorsione ai danni del Cavaliere. Le indagini sarebbero arrivate fino a un conto cifrato in una banca di Santo Domingo dove sarebbero stati versati 11 milioni di euro. Ma per l'avvocato dell'ex premier Ghedini, i pubblici ministeri di Palermo hanno distorto la realtà. Mercati europei in rosso in attesa del via libera dell'Eurogruppo al piano di aiuti per le banche spagnole. Lo spread sui bonus tocca il nuovo record, oltre 590 punti. Monti annuncia, non abbiamo nessuna intenzione di fare nuove manovre. E replica ad alcuni articoli, all'orizzonte non c'è alcuna patrimoniale. Lo spread come con Berlusconi? No, con me è sceso, sottolinea il premier. Situazione sempre più drammatica in Siria, sconvolta dalla guerra civile. Nella capitale si continua a combattere, secondo le organizzazioni umanitarie. Si contano almeno 300 vittime negli scontri avvenuti ieri. Il regime di Damasco smentisce la notizia diffusa dall'ambasciatore russo a Parigi, secondo cui Assad sarebbe pronto a lasciare il potere. Strage negli Stati Uniti in un cinema alla periferia di Denver. Un killer armato fino ai denti fa fuoco sugli spettatori nella sala dove si proiettava la prima di Batman. Almeno 14 morti, tra cui diversi bambini, oltre 50 e feriti. L'assassino arrestato poco dopo indossava un vestito come il cattivo del film e un giubbotto antiproiettile. Dunque, buongiorno dal telegiornale della Sette. Una mattinata importante in cui gli occhi tornano nuovamente sul Presidente della Repubblica napolitano, atteso da una cerimonia che ormai è tradizionale, quella del ventaglio, che si tratta sostanzialmente dell'incontro con tutta la stampa. Quindi, quale palcoscenico migliore scelto dal Presidente della Repubblica per tornare sull'argomento caldo di questi giorni, la trattativa tra Stato e mafia, il coinvolgimento che è arrivato a toccare proprio il colle, la condotta di Napolitano. Napolitano che non ha usato mezzi termini, ma è andato avanti e ha parlato senza dubbio del suo comportamento. Un comportamento, ha detto, su che ci sono attacchi miserrimi, non ho nulla da nascondere. In questo senso ho senza dubbio rispetto delle toghe, però non sono a critico. Sentiamo, cominciamo da qui. È durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, rito di incontro annuale con la stampa parlamentare, che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, fa un bilancio degli ultimi mesi di vita politica italiana, periodo che non esita a definire caldo, non solo meteorologicamente. L'allusione, chiara, è alle vicende legate alle polemiche successive alla decisione del Quirinale di sollevare presso la Corte Costituzionale il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato dopo che la Procura di Palermo ha acquisito agli atti alcune intercettazioni telefoniche che coinvolgono il Capo dello Stato. L'indagine è quella sull'ipotetica trattativa tra Stato e mafia durante il periodo stragista del 92-93. Napolitano non si sottrae all'argomento, ma anzi rilancia. Non sono fuoriuscito neppure di un millimetro dal ruolo e dai poteri disegnati in quella carta. Poi, rispetto al rapporto con la magistratura, Napolitano parla da Presidente del CSM. Ho sempre riaffermato, come era mio convencimento e preciso dovere, i fondamentali valori dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, senza peraltro indulgere a posizioni bonarie o a critiche e ponendo nel modo più obiettivo problemi di rigore sul piano dell'efficienza professionale e dei comportamenti. Infine, dritto al punto, la vicenda delle intercettazioni con l'ex ministro dell'Interno Mancino e la volontà del Colle dell'esclusiva ricerca di verità. Sulla ricerca della verità e della giustizia, senza nulla occultare e proteggere, conta comunque quello che è stato per me l'impegno di una vita. E su Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, come sulle indagini da condurre fino in fondo per far luce sulle stragi di cui essi furono criminale e bersaglio, conta quello che ho detto a Palermo già il 23 maggio e ancora ieri. Rispetto ai tempi che ci attendono, il Capo dello Stato non vuole fare previsioni. Su di sé conferma il termine del mandato nel maggio 2013. Rispetto alla prossima campagna elettorale, si appella alle forze politiche affinché si conservi il senso di coesione nazionale, visto che il 2013 sarà un anno cruciale, così come lo saranno i prossimi mesi. Quello di cui è certo è che però c'è bisogno di nuove regole per andare al voto. Il primo nodo irrisolto tra quelli qui citati da superare rapidamente è comunque quello di una nuova legge elettorale che scongiuri il ripetersi di guasti largamente riconosciuti e che risponda ad aspirazioni legittime avvertite dai cittadini. Il ventaglio consegnato alla fine al Presidente della Repubblica è formato da un unico lungo nastro di lino bianco, senza strappi. Non appare senza strappi dunque però questa vicenda, speculazioni misere, mi ha detto il Presidente Napolitano. L'affondo, l'ennesimo di Di Pietro, il leader dell'Italia dei Valori, non si è fatto attendere. Poco fa ha parlato apertamente Di Pietro, di un napolitano che sta in qualche modo tradendo la Costituzione. Tutto questo in una giornata in cui ancora in primo piano c'è naturalmente il lavoro dei PM di Palermo. In particolare gli occhi puntati sono sull'inchiesta che riguarda Marcello Dell'Utri. I soldi versati a Dell'Utri in quella presunta estorsione ai danni di Silvio Berlusconi ma anche della figlia Marina. Tracce ci sono, secondo i PM, sono tracce che porterebbero fino al Centro America. Ascoltate. Follow the money, segui i soldi. E seguendo le tracce del denaro versato da Silvio Berlusconi a senatore Marcello Dell'Utri si arriva fino al paradiso fiscale di Santo Domingo, 8 marzo, giorno di vigilia della sentenza della Cassazione sul processo in cui Dell'Utri è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. La Corte rinvierà tutto a Palermo ma avrebbe potuto decidere per la conferma della condanna e Dell'Utri sarebbe potuto finire in carcere. È in quelle ore che avviene il passaggio di denaro. Berlusconi acquista la villa di Dell'Utri sul lago di Como pagandola quasi 21 milioni di euro, una cifra incongrua, gonfiata, secondo i magistrati di Palermo che hanno indagato il senatore del PDL per estorsione proprio nei confronti di Berlusconi. Nello stesso giorno, 8 marzo, un bonifico di 15 milioni viene versato su un conto della moglie di Dell'Utri, Miranda Ratti. E nella stessa data una parte di questi soldi, 11 milioni di euro, viene messa su un conto del Banco Popolar Dominicano nella Repubblica di Santo Domingo. Un giro di denaro sospetto che secondo la Procura dimostrerebbe non solo la prova di una sorta di ricatto di Dell'Utri nei confronti del suo storico sodale Berlusconi, ricatto in cambio del silenzio su possibili legami con la mafia, ma anche l'intenzione del senatore del PDL di prepararsi una latitanza proprio in quel di Santo Domingo, nel caso fosse stato condannato. E in queste ore l'attività qui in Procura a Palermo ha subito un'accelerazione, erogatori internazionali, controlli della polizia valutaria sui conti intestati a Marcello Dell'Utri, alla moglie e ad eventuali prestanome. Intanto in Procura si commenta la notizia del distacco di Antonio Ingroia, procuratore aggiunto che coordina l'inchiesta sulla trattativa stato-mafia e anche quest'ultima costola che riguarda Dell'Utri. Ingroia ha chiesto di lasciare, ha accettato un incarico in Guatemala presso le Nazioni Unite, capo investigativo dell'unità di analisi criminale. La prossima settimana il CSM dovrà discutere la pratica, una decisione che non può prescindere dalle polemiche degli ultimi mesi, sollevate proprio dall'inchiesta sulla trattativa, che comunque Ingroia chiuderà entro agosto, prima di lasciare. Lì si è apprezzati più di quanto si sia apprezzati. Qui ci ha detto stamattina con una punta di polemica, il lavoro dell'antimafia italiana ha aggiunto Ingroia all'estero e preso come esempio. La prossima settimana i magistrati di Palermo proveranno a convocare nuovamente come testimoni Silvio Berlusconi e la figlia Marina, proprio sulla storia dei saluti versati a Dell'Utri, quasi 50 milioni di euro in 10 anni. Ma l'avvocato di Berlusconi, Ghedini, in una nota, lascia intendere che difficilmente Berlusconi risponderà ai PM. Ghedini contesta la titolarità della procura di Palermo in questa indagine. Berlusconi, scrive Ghedini, non ha alcun obbligo di rendere dichiarazioni, situazione che va estesa, aggiunge, anche alla figlia Marina, dai cui conti, secondo i magistrati, sarebbero partite altre donazioni nei confronti di Dell'Utri. Allora, elementi per raccontare quella che è la situazione sono arrivati sicuramente dalle parole di Napolitano oggi, così come da quelle del Presidente del Consiglio Mario Monti, che poco fa ha finito la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Innanzitutto quel che è stato deciso nel Consiglio dei Ministri odierno, l'accorpamento delle province, tanto se ne è parlato in queste settimane, se ne salvano 43, 64 verranno invece accorpate, poi c'è anche il riordino delle festività che però il Governo ha deciso di non accorpare. In conferenza stampa, lo vedete, Mario Monti ha toccato tantissimi temi, innanzitutto il calo dello spread, il Presidente del Consiglio ha detto che questo calo c'è stato durante il suo governo rispetto a quello del periodo Berlusconi, perché lo spread non cala ulteriormente proprio per l'incertezza politica, in questo senso ha ricalcato le parole del Presidente della Repubblica napolitano, l'invito ai partiti a mantenere l'impegno e a prendere decisioni. Ha smentito le notizie che riportavano alla possibilità di una nuova manovra in arrivo, così come ha smentito l'urgenza e la necessità di una patrimoniale che non ci sarà e poi ha parlato e è tornato anche sul suo incontro urgente col Presidente della Repubblica napolitano, non legato a esigenze particolari, ma è tutta la situazione in questo momento, situazione italiana che richiede da parte di tutti gli elementi, a cominciare proprio dall'esecutivo, grande rapidità. Ha detto il contagio è in corso, ha detto Monti, ma noi non dobbiamo diffonderlo. Come si fa? Si fa innanzitutto attendendo quelli che sono i risultati dell'Eurogruppo in corso in questo momento, la parte più importante riguarda senza dubbio gli aiuti da sbloccare quelli per gli istituti spagnoli. Quindi vediamo. Dovremmo. Attesa, Guardinga è molto pessimistica. L'atteggiamento che prevale sui mercati è questo, in vista dei risultati dell'Eurogruppo in teleconferenza proprio ora in corso, che dovrebbe decidere sui dettagli tecnici del pacchetto di aiuti alle banche spagnole, alle banche e non solo secondo quanto emerge dall'accordo quadro di assistenza finanziaria, pubblicato ieri sul sito del Bundestag il Parlamento tedesco, che aveva appena approvato il piano di aiuti, e firmato dal governo di Madrid con il fondo salvastati EFSF, che dovrà erogare i soldi. Circa 100 miliardi di euro che serviranno a ricapitalizzare gli istituti di credito iberici sull'orlo del tracollo, ma non solo, dicevamo. Perché ciò che emerge dall'accordo quadro va oltre. La Spagna, infatti, potrebbe usufruire di una sorta di scudo antispredante l'itteram. Se infatti Madrid non dovesse utilizzare tutto il denaro previsto dal memorandum per soccorrere le proprie banche, potrebbe chiedere, previa la firma di ulteriori protocolli di intesa, di utilizzarlo per altri scopi, come ad esempio l'acquisto di titoli obbligazionari, sia sul mercato primario che su quello secondario, e la concessione di prestiti al governo. Una vera e propria ipotesi di salvataggio dello Stato, dunque. In cambio degli aiuti, l'esecutivo guidato da Mariano Rajoy ha già pagato il prezzo della manovra lacrime e sangue da 65 miliardi di euro, che da una settimana a questa parte sta provocando vastissime proteste in tutto il paese. Parlavamo di una situazione di attesa da parte dei mercati, fotografata dall'andamento contrastato delle principali piazze europee, che ora viaggiano tutte, in territorio negativo, le peggiori, neanche a dirlo, Milano e Madrid. Segno che le speranze nelle decisioni provenienti da Bruxelles non sono poi così solide, anche perché di speranze, guardando alla situazione ormai quasi incontrollabile degli spread, c'è da averne davvero poche. Il differenziale tra i bonus spagnoli a 10 anni e gli omologhi Bund tedeschi, infatti, ha toccato in mattinata quote sempre più elevate. Parliamo di 593 punti record storico e di rendimenti, che da ieri si mantengono costantemente sopra il 7%, un tasso insostenibile. La pressione enorme sui titoli del debito spagnoli non fa che aumentare a dismisura quella sul nostro spread, che viaggia in decisissimo rialzo rispetto a ieri e si colloca in area 490, con rendimenti oltre il 6%. La tensione, insomma, è sempre più alta. E forse anche per questo che Monti poco fa ha detto che l'Italia deve farcela da sola, senza aiuti, per evitare di finire come altre piazze. Il riferimento è spiccito e quanto sta accadendo in Spagna. In questo senso il Presidente del Consiglio ha chiesto anche ai sindacati una mobilitazione che però non impedisca l'azione di governo, che è un po' quel che sta succedendo invece in Spagna. Solo nella giornata di oggi 80 manifestazioni in tutto il Paese contro quella manovra lacrime e sangue che, guardate, cosa ha comportato. Solo nella giornata di ieri. Vogliono rovinare il Paese. Dobbiamo impedirlo. Somos mas. Noi siamo di più. E questo è il grido delle almeno 100.000 persone ieri sera a Madrid della protesta contro le misure di austerità decise dal Governo. L'attenzione esplosa verso la mezzanotte, quando gli agenti hanno iniziato a disperdere e inseguire gruppi di manifestanti diretti verso la Camera dei Deputati. Cariche ripetute e uso dei proiettili di gomma da parte della Polizia per rimuovere le barricate alzate da centinaia di persone. La piazza di Madrid assomiglia sempre di più alle piazze greche dei mesi scorsi e la capitale spagnola non è sola nella protesta. Anche a Barcellona, come nelle principali città del Paese, ci sono stati grandi cortei. Una risposta al piano del primo ministro Ahoi e della sua manovra da 65 miliardi di euro per cercare di frenare il disavanzo pubblico. Tra le misure approvate dal Governo iberico, drastici tagli di spesa e delle retribuzioni del settore pubblico, compresa l'eliminazione delle tredicesime per i dipendenti statali, equivalente a una riduzione del 7% annuo degli stipendi. Per questo ramassiccia nei cortei la presidenza dei dipendenti statali, medici, professori, vigili del fuoco e poliziotti senza divisa. Tra gli indignati mischiato anche l'attore Xavier Bardem. E anche questa mattina a Madrid si registrano nuovi tafferugli con sei feriti. I sindacati chiedono un referendum sulla manovra di austerità e annunciano un agosto di lotta, preludio di un autunno di scontro sociale senza precedenti. E c'è che in questa fase di crisi punta il dito anche sulle agenzie di rating. Sicuramente al lavoro, da questo punto di vista, c'è la procura di Trani, già dal 2010, procura di Trani, che adesso si concentra su un altro aspetto legato al mercato, quello del possibile manipolazione dei tassi. La procura di Trani ha aperto un'inchiesta sull'Euribor, il tasso interbancario che serve, tra l'altro, a determinare i mutui a tasso variabile. Vuole accertare se c'è stata una manipolazione a favore del gruppo di banche europee che lo determinano. La notizia arriva da due associazioni di consumatori che hanno presentato denunce alle procure. La procura di Trani è la stessa che sta indagando anche sulle agenzie di rating Moody's, Standard & Poor's e Fitch. Cerchiamo di capire meglio. L'Euribor si basa sulle segnalazioni sui tassi applicati da 43 banche europee. Determina in sostanza i mutui e l'interesse sui prestiti. Ora, le quattro maggiori banche europee, Credit Agricole, HSBC, Deutsche Bank e Societe Generale, sono già finite nel minimo dell'antitrust comunitario che sospetta un potenziale cartello per determinare l'Euribor. E qui rispunta l'inchiesta sul tasso gemello, il Libor, quello applicato tra le banche che operano sul mercato londinese, da cui dipendono miliardi di contratti. Meccanismi complicatissimi, ma con un fine molto semplice. Basta variare un piccolo numero e si guadagnano miliardi. Per capire lo scandalo sul Libor occorre tornare nel 2008, quando Tim Geithner, allora governatore della Fed di New York e oggi segretario del Tesoro americano, informò il governatore della Banca d'Inghilterra, King, imitandolo a fare delle riforme sul tasso Libor, definendolo poco trasparente. King ringraziò, passò l'informazione, ma tutto rimase come prima. E oggi proprio il tasso Libor è al centro di uno scandalo bancario internazionale. La superbanca inglese, Barclays, ha patteggiato il pagamento di una multa da 290 milioni di sterline per risolvere la disputa e chiamarsi fuori. Ma negli Stati Uniti la class action, le azioni legali che vedono alleati più consumatori, sono partite addirittura un mese prima che la notizia finisse sui giornali. Molti hanno investito in strumenti finanziari basati sul Libor. Se si dovesse accertare che le banche hanno manipolato il tasso, il risarcimento potrebbe essere stellare. Insomma, serve trasparenza, in America come in Europa. Le associazioni dei consumatori gridano allo scandalo, ma c'è un rischio. Se si dovessero davvero cambiare le regole, chi ha un mutuo variabile rischierebbe di pagare di più rispetto a oggi. L'Euribor infatti è più basso rispetto al tasso di interesse della BCE. I mercati che probabilmente tireranno un sospiro di sollievo è arrivata la conferma che l'Eurogruppo ha trovato l'accordo sull'aiuto alle banche spagnole. Tutt'altra situazione invece in Siria, dove non c'è tranquillità, non c'è neanche chiarezza sulla situazione con il regime di Assad che a quanto pare prova a riordinare le fighe dopo l'attacco di Damasco dei giorni scorsi. Uno dei valichi di frontiera tra Siria e Turchia da ieri è nelle mani dell'esercito libero siriano. I miliziani che ne hanno preso possesso dopo la fuga delle guardie fedeli a Damasco scaricano ora rabbia e tensioni contro le immagini del presidente Assad, mentre la guerra civile in furia in mezzo paese si fugge verso le tendopoli in territorio turco o verso il Libano, dove sarebbero transitata nelle ultime 24 ore almeno 30.000 persone. Scontri violentissimi e bombardamenti dell'esercito sono in corso in almeno sei tra soborghi e quartieri della capitale, come Midan, Tadamon, Kabun e ancora Jaber, Dumeir e Tayabia. A Damasco è l'apocalisse, dichiara in un'intervista stamattina il vescovo maronita a Monsignor Nasar. Iniziano a mancare cibo, gas, benzina e tutte le strade verso la Giordania, Aleppo e Homs, sono state chiuse. Fonti di regime hanno confermato la morte avvenuta inottata del capo dei servizi segreti siriani, vittima anche lui dell'attentato di due giorni fa contro la sede della sicurezza nazionale che ha di fatto decapitato i vertici militari e di intelligence del paese nonostante il presidente Assad abbia immediatamente provveduto a nominare un nuovo ministro della difesa. E sempre fonti governative smentiscono poi l'affermazione rilasciata poche ore fa a Parigi dall'ambasciatore siriano in Francia circa le imminenti dimissioni del Rais di Damasco dato in fuga dal paese ma riapparso ieri in tv proprio con il nuovo capo delle forze armate. Intanto, per citare una dichiarazione dell'ambasciatore tedesco all'ONU, la Siria muore ma Mosca e Pechino continuano ad esitare. La Russia, dopo aver votato l'ennesimo no a sanzioni dure contro il paese amico rifiuta lo scarico di responsabilità per l'acuirsi della crisi interna per adesso dà il suo ok solo ad altri 45 giorni di missione degli osservatori dell'ONU e si dice preoccupata da un'eventuale azione militare contro la Siria come auspicato e minacciato dall'America senza legida di Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite. Sarebbe un segnale preoccupante per tutti, dicono i russi, mentre lunedì l'Unione Europea varerà le sue nuove sanzioni contro Damasco mirate a bloccare nuove forniture di armi grazie a controlli più intensi e a congelare beni e visti agli uomini di regime. In primo piano c'era anche l'attentato agli israeliani in Bulgaria, quello che aveva fatto scattare l'allarme negli Stati Uniti per i turisti e i cittadini americani in Europa. Nessuno avrebbe potuto immaginare, neanche un Obama che in queste ore si dice scioccato, che invece il terrore sarebbe arrivato nel cuore del Colorado a Denver, la prima di un film di Batman, si è trasformato in un palcoscenico terribile di morte per un ragazzo che ha sparato davvero a caso. Per fare una strage ha scelto di mascherarsi da flagello, uno dei cattivi della saga di Batman. E così col volto coperto da una maschera antigas, un giubbotto antiproiettile, un fucile e due pistole, un folle di 24 anni ha fatto eruzione alla proiezione della prima del Cavaliere Oscuro e Ritorno, l'ultimo capitolo della saga dell'Uomo Pipistrello. Siamo nello stato del Colorado, periferia di Denver, nel cinema Century Sixty Movie Theaters che si trova all'interno del centro commerciale della cittadina di Aurora. Il folle prima avrebbe aperto il fuoco all'impazzata e poi lanciato un candelotto fumogeno. In base agli ultimi aggiornamenti sono almeno 14 morti, di questi 10 sul colpo, gli altri dopo il trasporto in ospedale e almeno 50 ai feriti. I testimoni parlano di scene raccapriccianti. Tra le vittime ci sono bambini, il cui corpo è stato dilaniato dagli spari. Uno sarebbe stato ucciso a bruciapelo, una bambina è stata colpita da un proiettile al volto o un'altra allo stomaco. L'uomo che è già stato catturato a quanto risulta la polizia è agito da solo e è stata esclusa dunque la presenza di un complice, come affermato in un primo momento. La polizia, le FBI e le autorità hanno fatto evacuare la zona, mentre proseguono i controlli sulla presenza di eventuali bombe. Alcune sarebbero state piazzate vicino al luogo della strage, altre, in base alle dichiarazioni del fermato, sarebbero nella sua abitazione. Il terrorista ha indossato i panni di Bane, in Italia conosciuto come Flagello, un personaggio legato alle storie di Batman. Nemico dell'eroe 35esimo, nella classifica dei cattivi, nella storia dei fumetti, dotato di grande intelligenza, la mette a disposizione del male, grande conoscitore della strategia militare e anche dotato di una forza sovrumana. L'FBI sta valutando di alzare il livello di allarme per la sicurezza nel paese. Nel giro di quattro anni, le stragi che hanno coinvolto dei giovani sono state ben sette, l'ultima risale a giugno scorso in Alabama. Torniamo con l'instabilità politica di cui ha parlato Monti questa mattina. Si specchia bene nel momento della Lega una convivenza, è mai chiaro in questi termini davvero impossibile, tra Bossi e Maroni. La tregua armata che diventa scontro frontale, questione di leadership. Il gelo nella Lega c'è e si sente rigorosamente a distanza. Ieri per tutto il giorno Bossi e Maroni hanno continuato a rispondere alle domande su chi comanda nel carroccio. L'ultima parola in serata è toccata al neosegretario presente a Venaria, a una festa leghista. Nessuna querella, il congresso c'è stato, ha preso le decisioni, la questione è chiusa per me. Più chiaro di così, tutto era cominciato proprio da Maroni. L'intervista è incriminata a quella uscita oggi sul magazine del Corriere della Sera, ma le cui anticipazioni due giorni fa avevano scatenato lo scontro. Comando io aveva detto senza mezzi termini il barbaro sognante che sul ruolo del vecchio capo aveva precisato solo un ruolo affettivo, il riconoscimento concesso alla sua storia personale. Insomma, la Lega 2.0 è roba mia. Parole che non sono piaciute al presidente del carroccio, i cani piccoli abbaiano ma non fanno paura a nessuno, gli ha risposto Bossi, che non ci sta ad essere messo alla porta. Parole dure che fanno pensare a un rischio di scissione dentro il partito, anche se su questo è lo stesso Bossi a frenare. Si parla di un'impossibile scissione nel partito? Speriamo di no. La gente che decide tutti i giorni, non è una volta per tutte. Scissione oppure no, il clima che si respira nella Lega è di insofferenza, rancori e provocazioni sono ormai una consuetudine tra i due. Oggi ci prova il bossiano Speroni ad arginare lo scontro. Bossi e Maroni? Nessuno scontro, hanno semplicemente ruoli diversi, ruoli che il segretario vuole mettere bene in chiaro. Si muove già da leader, tanto che ieri a Roma ha incontrato Silvio Berlusconi per discutere della legge elettorale. Sul suo profilo Facebook, Maroni oggi scrive prima cosa da fare, mandare a Casamonti, poi fare il grande partito del Nord. Ora la partita da giocare, anche dentro la Lega, sarà quella delle alleanze. C'è un paese in festa in Sardegna che attende di riabbracciare Rossella, Uru, 270 giorni di prigionia, quel che colpisce già la voglia di tornare in Africa. Però di mezzo c'è naturalmente il confronto con i PM, il saluto alle istituzioni, ma soprattutto la voglia di riabbracciare casa. Iniziato con un lungo interrogatorio in procura a Roma, la prima giornata in Italia da donna libera per Rossella Uru, dopo 270 giorni di ansia passati in Africa nelle mani dei suoi rapitori. I PM hanno aperto un fascicolo contro i gnoti con l'ipotesi di sequestro di persone a scopo di terrorismo. A loro il compito di ricostruire nei dettagli la dinamica di un sequestro che presenta diversi lati oscuri. A cominciare dal presunto riscatto pagato per la liberazione della cooperante Sarda e dei due colleghi spagnoli sequestrati insieme a lei. I tre erano stati rapiti da un gruppo di guerriglieri la notte tra il 22 e il 23 ottobre 2011 in un campo profughi nel sud dell'Algeria. Scomparsi nel Lulla, nessuna notizia per giorni fino alla diffusione di un video che mostrava i tre ostaggi a terra e i rapitori in piedi. Il gruppo Mujaho, Movimento per l'Unicità e la Jihad, nell'Africa dell'Ovest, gruppo secessionista di Al-Qaeda nel Maghreb. Mercoledì l'annuncio della liberazione con i tre consegnati agli emissari del governo del Burkina Faso che ha mediato per la liberazione. Ieri sera l'arrivo di Rossella in patria, l'abbraccio con la famiglia, il ringraziamento alle autorità italiane e il saluto del premier Monti. Questa mattina l'incontro con il procuratore aggiunto di Roma, Cataldo, alla presenza dei carabinieri del Ros. Rossella Urro ha confermato di essere stata trattata bene di aver visto delle armi durante il sequestro mai puntate contro di lei. Ha raccontato di aver fatto lunghe traversate a piedi insieme ai suoi rapitori, trasportata da un posto all'altro. Secondo un portavoce del Mujaho, per il rilascio dei tre ostaggi i rapitori avrebbero intascato 15 milioni di euro di riscatto, oltre al rilascio di un Mujahidin in Mauritania. Affermazioni tutte da dimostrare. Quel che è certo è che Rossella sta bene ed è pronta a ricominciare il suo lavoro di cooperante e perché no, magari a tornare in Africa. Lo ha detto ieri a Monti, al suo arrivo a Roma, probabilmente lo ha riconfermato durante il suo incontro con il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, avvenuto poco fa al Colle. In serata è previsto il ritorno in Sardegna, a Samugheo, dove tutto il paese l'aspetta per festeggiare. Adesso noi ci fermiamo, pubblicità, torniamo con gli aggiornamenti. Tra poco. Di nuovo insieme, 40 secondi dopo le 14, tutti gli aggiornamenti con le reazioni che stanno arrivando alle parole del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio le troverete sul nostro sito internet, come sempre, poi prossima edizione del Telegiornale alle 20. Noi ci rivediamo domani. Grazie, arrivederci.